Ti porto in questa chicca, appartamento da paura, ma definire l'appartamento è veramente limitativo. È un'opera d'arte incastonata nel cielo del centro storico di Milano. Va percepito questo appartamento? Qui siamo già in una enorme sala da pranzo, illuminata da queste velux oversize. Guarda qua, aiuto, parete Gaggenau fatta su misura. Raramente ho visto una cosa di simile bellezza ricercatezza. Questo enorme living doppio, con doppia esposizione. Anche in camera si respira quest'aria di romanticismo, stanza molto cosy, proprio da coppia che vuole godersela. Lavello in marmo, rivestimenti in ceramica vietnamita. E poi abbiamo l'altra ala dell'appartamento. Sai, qui tu puoi usarla in modo elastico. Può diventare la seconda grande camera con suo palco e balcone. La stanza ospiti, lo studio. Abbiamo anche qua una cabina armadio walk-in e un bagno che è un'opera d'arte. Allora, ascoltami, un breve recap. 214 metri quadrati, stabile d'epoca del 1600, perfettamente ristrutturato e restaurato nelle facciate. Ultimo piano, luminosissimo. La richiesta è perfetta e coerente. 2 milioni e 100 mila euro.